Musica Ciao a tutti ragazzi sono il D e bentornati sul mio canale Bella per voi Allora, l'ultima volta eravamo qui con il nostro Watchdog 2 e con il nostro amichetto che dobbiamo cercare di capire l'obiettivo falsi profitti, l'operazione principale falsi profitti e dobbiamo incontrarci dopo aver salvato quel tizio dal new down, un tempio di non si sa di che cosa che facevano tu sei quello che dovresti essere, fai quello che dovresti fare, fai quello... Bene, adesso che abbiamo scoperto chi dobbiamo incontrare, quando, come e perché andiamo a incontrare questo Jimmy vicino al nostro tempio, che già ci stavo, ovviamente già stavo qua Perché c'ho le... 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 chi è? Ok, iniziamo la missione Video? Sì Un altro lancio. La Galilei si tiene occupata. Psst. Ehi, sono io, sono qui. Jimmy Siska. Sono... in incognito. Sì, lo vedo. Bellissimo, eh? Quella casa è fondata sulle bugie. È ora di confessarsi. Vedete, è aperta tre. Quello è uno dei nuovi classici. Un classico. Scusami, non avevo capito che fossi un mio fan. Già, già. Già, già. Sì, lo ero. Già. Ho fatto un bel casino, eh? E non è nemmeno la prima volta. Ma si può sempre ricominciare da capo. Tipo qui. Proprio qui e ora. Cioè... Voglio dire, magari non esattamente qui e ora. Non lo so se riesco a rimettere piede lì dentro. Non fa niente. Dimmi che devo cercare, ci penso io. Va bene. Bene, ok. Allora, c'è un ascensore che porta dritto al seminterrato. Lì sotto troverai delle antiche tavole sumere. Che incise il visitatore in persona. No, senti, dico sul serio. E quelli... Quelli fanno sul serio. Mmh. Ok, ok. No, ti credo. Va bene. Ok. Se ti serve qualsiasi altra cosa. Fammelo sapere. Va bene, Jimmy. Jimmy Sisca è quel tizio che abbiamo salvato. Ok. Mamma mia, come sei violento. Mamma mia, ma perché mi devi... Eh. Ok, facciamoci la zona... No, ragazzi, io... Cioè, ho guidato fino adesso con GTA con sto coso, non me ce trovo proprio. Non me ce trovo proprio. Cioè, è proprio difficile. Difficile, cazzo. Ma come fai a guidare su sto gioco? Come sei guida? Come sei guida? Cioè, è difficilissimo che cazzo rola di Buddha. Ok. Sono arrivato. Dai. Allora. Dobbiamo scendere nel seminterrato. Però se io adesso entro e mi cioccano... Quante guardie ci stanno? Che tipo di guardie ci stanno? Allora, facciamo B. Mettiamo giù la nostra... Vetturina. Che probabilmente... Possiamo fare qualcosa di più divertente con questa. Tipo quella telecamera là. Perfetto. Ok. Ok. Non mi interessa. Ah, 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 ah. Chiede l'hack. Chiede l'hack. Ah, che era? Eccolo lì. Super. Ma là c'è una telecamera? Uh, c'è anche un tizio lì. Allora, facciamo così. Telecamera. Oh, oh. No, rientra un attimo lì. Rientrami un attimo lì. Perché io devo hackerare... Devo hackerare... Questo. Ok. V. Devo hackerare quello. Posso entrare da qua. Volendo. Però qui... Ehi, avete sentito? Me ciocca. Sì, me ciocca. Diabolico. Eh, sì, diabolico. Soldi. E no, questo fa avanti e indietro così. L'unica è sorpassarlo poi quando è. Però questo qua, dove porta? Ok. Facciamo... Uh, no, no, no. Attiva, attiva. Torna sulla macchinetta, figa. A parte il fatto che oggi mi sta scattando. No, mi serve il menu. Vorrei abbassare un po'. Io non so neanche se l'ho aumentata. Non l'ho aumentata. Filtro FPS, no. Campo visivo. Cioè, è rimasto come tutto era. Tutto prima. Cioè, sta tutto a posto. Non capisco... Qual è il problema. Forse mettiamo l'MFS... Vado a prendere il secchio. No, peggioro ancora. Tiè, guarda me la lenta. Ma com'è sta cosa? Che problemi c'hai oggi, computer? Che problemi hai oggi? Cioè, non ti sto chiedendo mica il mondo? Non ti sto chiedendo mica il mondo, Santa Lucia. Ok. No. Ma... Va un po' a scatti. Mi piace sta cosa. Ok. Leviamo tutti questi qui che sono... Tecora... 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 Boh, è uguale. Sembra uguale. Però va almeno uguale. Ok, ragazzi, ok. Mi si era bloccato il mondo. Devo ricominciare. Allora. Rifacciamo qui. Com'era? Allora, uno di su. De su. Sbloccato. Va da giù. Quindi vai così. Poi questo vai così. No. È sbagliato. È così. Ok. Sbloccami. Ok. Una volta sbloccato questo... Devo sbloccare questo. Che se faceva così... Non mi porta qua. Mi riporta lì. Sblocchi qua. Mi porti giù. Questo me lo porti giù così. Mi sblocchi questo. Ottimo. Poi mi sblocchi questo... Che si faceva... Ambra, baci, cic e cocco. Ho sbagliato, porca. È pazzozza. Così. E... No. Ho sbagliato. Così. Sblocchi qua. Mi fai così. Mi sblocchi qua. Mi sblocchi questo. E mi porti lì. Mi sblocchi questo. Perfetto. Mi arriva da quello a quello. Perfetto. Ora mi serve che mi sblocchi questo. Così. Questo così. Questo così. Ah, questo. Vabbè, questo così. Eh, per forza. Questo così. Sblocchi qua. Sblocco là. Bam. Sbloccato. E adesso? Wow. Scherziamo. Ascensore segreto sblocato. Non posso credere che lo hai detto. Cosa? È vero. Ah, ah. Piamami, stola quella anticongelante qua. Benvenuto al quinto livello di New Dawn. E complimenti per la tua ascesa spirituale. Ma va... Ma ascesa spirituale. Ho dato il massimo. Eh, tu sia, no? Ascesa spirituale. La seconda tavola definisce il massimo. Ok. State ammirando i sorprendenti tesori della New Dawn. Ah, ah. Le basi della loro cosiddetta religione. File e file di antiche tavole sumere. Qui è pieno di cazzate simili. Ma queste, queste... Sono qualcosa di speciale. Perché non sono nei musei? Cioè, chi dà il diritto alla chiesa di tenerle nascoste al mondo? Sì. E ora di scoprirlo. Oh, c'è scritto di non toccare, ma... Eh, io voglio proprio farlo. Solo un pochino e dai. Sono così pieni di storia. E sono felice di far parte di una cosa così... Oh, no, 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 no! Porca... Sono tutte false. Ma che stronzata. I fedeli della New Dawn pagano milioni di dollari per poter vedere queste cose, e sono false. Sì. Proprio come tutte le promesse di questa chiesa. È tutto vinto. Ecco. Sì, ora sto meglio. Vieni qui. E' tutto finto E' tutto finto Come sospettavo Come si sospettava E' tutto completamente finto Ebbè Ehi, ehi Davanti Guardate La New Dawn Sì Eh già Tocca a voi Join us Iscrivetevi Unitevi Bene Allora Perché sono a riparo? Io devo uscire Uscire, uscire, uscire Tanto sono tutti morti L'ho uccisi tutti Sono tutti Tutti deceduti Deceduti Ah, io voglio scendere qui sotto Porca di quella Eva Sozza Voglio andare a vedere che c'è qua sotto Eccolo, uno è morto Uno è già morto Eh, voglio scendere Voglio scendere Qua, 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 qua Qua sotto Voglio andare io Voglio andare qui sotto Ok, come lo sblocco Eccolo lì Come lo sblocco io Eccolo quello? Eccolo là Come ci vado là io? Ah, forse con una macchinina Ah, aspetta Ah, aspetta Eh, sì Aspetta No, mi serve Mi serve di andare lì Ok, questa Mi serve questa Però, prima Mi serve Quella Eccolo là Terminale Come ci arrivo io a quel terminale lì? Serve la macchinina per entrare Giusto? Ok Serve la macchinina per entrare Eh, cambia visuale Ok, serve No, no, no Cambia visuale Ok Adesso si cambia meglio Serve la macchinina Appunto Perché devo entrare là Però il punto è Da dove si entra? No Aspetta, aspetta Aspettate Non me di che si entra da qua Che questo è solo a me Ma dai Sul serio Sul serio Eh, già Sul serio Ok Devo andare a sbloccare quello Voglio quelle macchine pure Via Sblocca Ma che gran figata Ragazzi Ma che gran figata Mamma mia Ma queste cose sono proprio Nostra fighe De più Apri Ups Sono tornato dal mio boss Raccogli Perfetto Perfetto Wow No, regà Ma è spettacolare Sta cosa Comunque Allora Angingot Recivetta sul Comò Che prendo? Uh, questa è interessante Però questa è più figa Questa è proprio la più figa C'è un cacchio da fare Eh, poi è anche suonante Preoccupa Adesso sì che si ragiona Wow Wow Porca vacca Madonna che figata Regà Wow Wow Si muove tutta Ok Missione completata Perfetto Perfetto Meglio di niente Molto meglio di niente Noi abbiamo un sacco di cose Un sacco di cose In più Un sacco di cose In più A che spazio Vai No, nulla Voglio mettere Il punto Il coso Il fil Il coso Eccolo Vorrei vedere se riesco a Ehi Sitara Sì Volevo chiederti dei tuoi poster Sono belli Davvero belli Sembra arte Fa culo È arte Ah, non saprei sai Non mi intendo molto di street art Allora sarai il mio solo assistente Ti manderò una posizione Aspetta un secondo Che qui c'ho dei livelli Da sconsumare H Veicoli Controllo remoto Questo che è? Imbrogliare Cioè Ebbè Non ho capito Aumento i follower Detects Esplorare il mondo Ce l'ho Equipaggio a jumper Con un altoparlante interno Sfotti i PNG Ah, ok Per fargli inseguire il coso Ok, ok Ho capito Scanner di prossimità Oh, porca di quella Date il drone Nell'abilità Scansione avanzata Dal PNG Ok, io però voglio vedere una cosa Voglio andare un attimo Al dead sack Voglio andare un attimo All'HQ Al dead sack Perché voglio vedere Se riesco A comprarmi Il coso Il drone, raga Oh, 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 oh Madonna, raga È difficilissimo Guida dentro Sto gioco Ma come hanno fatto Sto coso Modalità guida È veramente Pessima Cazzo Veramente Una cifra Pessima Ma che è? È incontrollabile È tutto Incontrollabile Non si può controllare Ok Ok Via, via, via Allora Ragazzi Penso che io torno Un attimo Al QG All'HQ Anzi Perché si chiama H è il spazio E poi ci vediamo In un prossimo episodio Madonna Corre una cifra però Chi è? Ma con 300 metri Eh, beh Dai Non è malaccio Fermarla Il problema è Se vai Uh Dov'è? Eccolo Chi è? Chi è? La compagnia Che ha creato La costosa Automobile Hightech Che appare Nell'ultimo Blockbuster Dello studio Cyber Driver Beh, bella Bella In le mail Un dirigente Dice che l'auto È un inutile catorcio E minaccia azioni Legali contro La società Aerospaziale La buona notizia La buona notizia per gli studios È che in seguito al leak L'interesse nei confronti del film È aumentato Cyber Driver È il successo a sorpresa dell'anno Bello No, va bene Bellissimo Stupendo Ma vatta Piene secchio Marcus La nostra rete di follower Continua a espandersi È solo merito tuo Hai dato il via a tutto Il Deathsac era un gruppo di idealisti Prima che tu lo trasformassi In un movimento Sì La gente sfoggia i tuoi disegni E ripete i tuoi slogan Hai davvero creato un movimento Grazie Marcos Ma ricorda che c'è Uno scopo dietro Non sono qui per il mio ego Io voglio che la gente Si svegli Cazzo Ho dormito per un bel pezzo Ma ora è finita Eh sì, ecco il drone Bellissimo, bellissimo Il bellissimo drone Ma che cazzo ratificata Ragazzi abbiamo fatto il drone Abbiamo fatto il drone Con la H si mette sul drone Vediamo un po' Oh porca vacca No Ma che cazzo Ma scherziamo Mamma mia Ragazzi è una cosa Fichissima Ma è una cosa a dir poco Stupenda Mamma Ma Così io richiamo Mamma mia che figata Che figata Che figata Il drone Che figata Lo voglio 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 Allora ragazzi Noi ci vediamo in un prossimo episodio Come sempre sono in D Ricordate di iscrivervi Lasciate un commento Che nel prossimo episodio Abbiamo il drone Abbiamo il drone Abbiamo il drone Noi ci vediamo in un prossimo episodio Ciao a tutti Oh ragazzi Tutti i link stanno in descrizione Ricordatelo eh Noi ci vediamo in un prossimo episodio